Dal nostro caro Dario, cerchio e seno attraverso NT, Alexander, noi vi esortiamo a far sì che la sintonia tra voi sia il più perfetta possibile. Dovete creare quella connessione psichica per favorire noi nel trasmettervi i nostri pensieri. Cercate anche di far tesoro delle parole che abbiamo ascoltato dal nostro caro Dario. Quando vi ha detto che il giorno della riunione, il giorno dell'incontro tra noi e voi, dovete cercare di renderlo il più sereno possibile. Certamente la vita è quella quotidiana con tutti i suoi contraccolpi piccoli e grandi, ma voi dovete fare uno sforzo e dire oggi devo essere sereno, oggi non devo litigare con il mio simile, oggi non devo fare il prepotente con nessuno, oggi devo accettare di essere più tollerante. Il fare questo vi porterà a questa riunione con una situazione migliore e noi potremo procedere più velocemente. Vi abbraccio e vi benedico tutti.